Amici, colleghi, compagni di studio, benvenuti nel vostro canale preferito. Un calice di ripasso. Perché un calice di ripasso? Perché nulla può sostituire la lezione con il professore, lo studio sui libri o il materiale messo a disposizione dell'università, ma un ripasso insieme non fa mai male, come un calice di buon vino. Calice, ripasso. Ora facciamo Bourque, De Maestres, De Bonald e Saint-Simon, preparatori per Comte. Allora, dopo la rivoluzione francese, si passa al periodo della restaurazione, dove si tenta di ripristinare il potere monarchico medievale. Ma ormai i concetti di uguaglianza, egalité, uguaglianza davanti alla legge e di libertà, erano diventati imprescindibili per qualsiasi società. Quindi la monarchia diventa la monarchia costituzionale. Quindi il re, il monarca, è comunque sottoposto alla legge. Prende piede la borghesia, sia in ambito economico che politico. È innegabile uno sviluppo delle scienze e della tecnologia in quel periodo. E cosa portano? Portano ad un accentramento del potere nelle mani della borghesia, con l'inevitabile conseguenza che si crea il proletariato urbano e industriale. Quali sono i tratti tipici? Allora, per primo c'è la volontà di ritorno all'ordine passato. Due, i problemi sorti con la tecnologia e il progresso. Per quanto riguarda il primo, gli autori che seguono questa corrente, questi tratti tipici, sono autori reazionari, mentre quelli che invece seguono la seconda strada, contestano i problemi sorti con la tecnologia e lo sviluppo, sono autori progressisti e socialisti. Alcuni invece tentano un mail merge, una sintesi delle due correnti. Parliamo ora di Burke. Allora, Burke scrive criticando i principi della rivoluzione francese, riprendendo la filosofia di Locke. Egli sostiene che le istituzioni sociali tradizionali si basano sull'ordine naturale, che deve essere rispettato. Scrive che la libertà si fonda sulla disciplina, cioè il rispetto della tradizione. Chi scompone o sconvolge questo ordine non ha rispetto, quindi la società che viene creata sarà irrispettosa. Per Burke la nobiltà è naturalmente migliore rispetto alle classi inferiori, tra cui gli artigiani, i contadini, i proletari, e si viene fosta in alto, una classe che era inferiore, quindi da sotto viene portata sopra, la struttura della società crolla. De Maester invece critica i principi illuministici alla base della rivoluzione francese, ma pone l'accento sulla tradizione cristiana, che è stata stravolta. Se l'uomo è lo strumento di Dio, non può diventare indipendente da esso. La nuova società diverrebbe una società senza Dio, quindi una società di selvaggi. E se il selvaggio è l'uomo naturale, De Maester si chiede ma volete assomigliare all'uomo selvaggio? Ma gli illuministi dobbiamo ricordare che utilizzavano lo stato di natura soltanto per dimostrare la corruzione della società dell'epoca, auspicando una società migliore rispetto a quella selvaggia. De Maester scrive che a Dio è stato chiesto abbandonaci, ed egli ha risposto fate, e la società è crollata. De Bonald invece scrive che la società è l'essere supremo e non vi è salvezza al di fuori di essa. La società per Bonald è divinizzata e questo pensiero influenzerà anche Comte. Anche il concetto che la società si contrappone all'individuo e alle sue passioni distruttrici influenzerà Comte e Durkheim. La società necessita di potere, coercitivo per dominare il singolo, che coincide con il potere di conservazione della società stessa. L'essere, società, vuole conservarsi, vuole la conservazione di se stessa. Quindi il vero potere non è nei singoli, ma nella società. De Bonald vede le teorie sociologiche di Rousseau e di Hobbes, quelle in cui i singoli mettono in comune gli interessi come gesto dei singoli, insomma. Però per De Bonald questo non genera il vero essere della società, perché gli interessi sono gli interessi dei singoli, non l'interesse collettivo della società. Dato il potere, data l'importanza del potere, è necessario che esista un ordine, una gerarchia, formato per De Bonald da tre soggetti, padre, madre e figlio nella famiglia, Dio, preti e fedeli nella Chiesa e Re, nobiltà e popolo nella società civile. La società sotto il potere di Dio è più forte di quella società sotto il potere degli uomini. Finiamo con Saint-Simon il più vicino a Comte, perché Comte lavorerà per lui. Egli concepisce la società come un'unità organica, un insieme composta da individui che devono svilupparsi progressivamente e contemporaneamente. La società non è un cosiddetto incidente, ma una macchina organizzata. Ricordate chi diceva che la società è un incidente? Ferguson. Tanto forte è la macchina quanto gli elementi che la compongono. Questo essere supremo, che è la società, può essere studiato col principi della scienza. Quindi si parla di fisiologia sociale, una sorta di antenato della sociologia. Egli ricerca un nuovo ordine basato sulle osservazioni scientifiche e addossa le colpe della crisi della società, proprio al passaggio da società teologica feudale a società scientifica industriale. In altre parole coincidono col pensiero illuminista e il periodo della rivoluzione francese. Questo è il presupposto di base che sarà rielaborato da Comte, suo segretario. Saint-Simon basa sulla scienza la certezza per la creazione di una nuova società dove le categorie improduttive devono sparire. Il potere politico deve essere eliminato in quanto è improduttivo, a favore di un coordinamento delle altre classi produttive legate all'attività economica. Parliamo quindi di politica scientifica, che governa per mezzo delle dimostrazioni, dove la nuova struttura economica è unita per migliorare in sintonia con l'ideale cristiano della fratellanza universale, concetto di base. Il nuovo cristianesimo, per Saint-Simon, è quel concetto in cui la religione deve portare un miglioramento, un grande miglioramento, nella classe più numerosa e povera, cioè il proletariato. La sociologia nasce quando la società tramite l'organizzazione prende coscienza di sé come soggetto separato dalla politica. Queste sono le basi di sociologia e di socialismo moderno. Amici, se vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un pollice in su. Se non mi mettete i pollici significa che non ve ne frega niente, a questo punto non li faccio neanche i video, me li tengo per me. Quindi a voi non costa niente mettere un pollice in su e io sono contento, perché vedo che il mio lavoro è utile a qualcuno. Ora mi preparo molto bene per Compt. Alla prossima!